Musica Mezzo si ribalta in A15, due feriti e un operaio rimane appeso alla piattaforma. Maxi Truffa Online, 42enne, tenta di estorcere denaro a uno spezzino, sequestrati 118 mila euro di beni. I numeri del virus in provincia non si registrano d'eccessi e calano i contagi, nasce la commissione d'inchiesta Covid. Fondazione Carispezze si rimette la presidente Claudia Ceroni entro la fine del mese e l'elezione del successore. Cala il sipario su A Scuola con la TV, Tere Liguria Sud, Comune, Ufficio Scolastico Provinciale Uniti nel progetto. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TLS giornale. Apriamo con la cronaca a paura questa mattina sulla A15 dove un mezzo si è ribaltato e due operai sono rimasti feriti. Coinvolto anche un collega rimasto appeso alla piattaforma del mezzo. Ma sentiamo la cronaca nel nostro servizio. Grave incidente stradale questa mattina sulla Parma alla Spezia in A15. Un mezzo che stava lavorando a bordo strada per gli interventi di manutenzione del viadotto Isola 2 si sarebbe sbilanciato ribaltandosi e per un soffio non è precipitato nel fiume sottostante. L'incidente è avvenuto attorno alle 10.30 sul posto. Sono giunte quattro squadre dei Vigili del Fuoco, le ambulanze del 118, delle pubbliche assistenze di Vezzano e Romito e due pattuglie della Polizia Stradale. Sono tre gli operai coinvolti ma i feriti trasferiti in ospedale sono due. I tre erano impegnati sulla piattaforma agganciata al camion per i lavori di manutenzione sottoponte. Quando il mezzo si è ribaltato un lavoratore è riuscito ad aggrapparsi al pilone e rimanere sulla piattaforma mentre un altro è precipitato nel terreno sottostante vicino alle acque del fiume. Anche il terzo è caduto ma è riuscito a calarsi giù gradatamente. I due operai caduti sono stati raggiunti dai Vigili del Fuoco e immobilizzati insieme al personale sanitario del 118. Uno è stato portato via in ambulanza all'ospedale della Spezia in shock room mentre l'altro è stato recuperato dall'elicottero dei Vigili del Fuoco Drago e trasferito all'ospedale San Martino di Genova in codice giallo. Parliamo ancora di cronaca stretta sui minimarket in centro città anche a seguito di una serie di esposti presentati da alcuni cittadini residenti nel quadrilatero tra via Fiume e via Le Garibaldi. Occhi puntati sull'Umbertino dunque con 15 esercizi pubblici controllati e per 9 di questi non sono state riscontrate in regolarità. Per 6 invece sono state elevate 10 sanzioni amministrative per un importo complessivo di 13 mila euro nonché è stata disposta la sospensione dell'attività per 5 giorni a carico di uno di questi ultimi. Nella maggior parte dei casi sono stati rilevati la mancanza dell'esposizione dei prezzi, l'emissione dello scontrino fiscale. Per un altro esercizio poi è scattato il sequestro di 10 kg di carne non conservata adeguatamente. Un altro ancora è stato sorpreso a vendere alcolici senza licenza. Nel corso dei controlli sono state individuate dentro un market anche 4 persone che non mantenevano le distanze e quindi è scattata la sospensione delle attività per 5 giorni e una multa di 400 euro. Nel corso dell'intero servizio sono state identificate 33 persone di cui 4 con precedenti penali o di polizia. Il servizio ha coinvolto la polizia di Stato, i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia municipale nonché i dipendenti dell'Asle e dell'ispettorato del lavoro. E parliamo ancora di cronaca, 118 mila euro di beni sequestrati e una donna arrestata. E' questo il bilancio dell'operazione condotta dalle fiamme gialle spezzine che hanno fermato una truffatrice residente nel modenese. La cronaca nel nostro servizio. Maletti ai polsi e custodia cautelare in carcere per una 42enne moldava residente nel modenese accusata di tentata estorsione e truffa aggravata. E' stata un'indagine della Guardia di Finanza della Spezia e l'azione della Procura della Repubblica della Spezia a mettere fine ai traffici della donna. A suo carico è stato eseguito un sequestro preventivo di beni per 118 mila euro. Ad accusare la donna è stato un giovane spezzino che ha fatto un esposto negli uffici della Guardia di Finanza. Le indagini hanno permesso di accertare che la 42enne era riuscita a farsi accreditare durante il lockdown un'ingente somma di denaro dal ragazzo al quale erano stati prospettati investimenti finanziari che poi si sono rivelati una vera e propria truffa. Per renderla sempre più credibile è stata usata anche la denominazione di una società di investimenti finanziari realmente esistente ma del tutto estranea alla truffa. La donna a partire da febbraio attraverso i canali di messaggistica quali Telegram e Whatsapp aveva instaurato un rapporto fiduciario con il giovane conosciuto online promettendo di approfondire l'amicizia e incontrarsi di persona alla fine del lockdown. In due mesi il ragazzo ha versato 118 mila euro che sono stati usati per acquisti online di telefonia, computer, gioielli e un'intera camera da letto. Ora veniamo all'aggiornamento del coronavirus in regione, in particolare per la Spezia. I dati migliorano sensibilmente, per oggi non si sono registrati decessi in provincia e i casi calano di due unità. I casi registrati in totale ad oggi positivi sono 65, due in meno rispetto a ieri. I positivi in Liguria sono 2167, 37 in meno rispetto a ieri. Il totale dei test effettuati in tutta la regione sono 122.654, 1631 in più rispetto alla giornata di ieri. Venendo alle ospedalizzazioni, in totale le persone ospedalizzate in tutta la Liguria sono 110, 3 sono in terapia intensiva e rispetto a ieri il calo è stato di 3 e questo dato è positivo anche alla Spezia perché i ricoverati in ospedale nelle strutture dell'ASL 5 sono 8, 1 in meno rispetto a ieri. I positivi asintomatici in tutta la regione sono 2057, 34 in meno di ieri. I sintomatici con febbre, tosse o dispnea sono 110, 3 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 140, 8 in più di ieri. Il totale dei guariti con due test consecutivi negativi sono 6183, 46 in più di ieri. E le persone in sorveglianza attiva nell'ASL 5, quindi nel territorio provinciale Spezzino attualmente, sono 58, 7 in meno di ieri. In tutta la regione sono 447. Infine le schede decessi sono 1512, una in più rispetto alla giornata di ieri. Parliamo ancora di coronavirus. Come richiesto dai consiglieri di minoranza, è nata in Regione Liguria una commissione di inchiesta sulla gestione del Covid-19. Il presidente è Andrea Melis del Movimento 5 Stelle, ma ce ne parla Jacopo Cidale nel suo servizio. Come richiesto lo scorso 11 maggio dai consiglieri di minoranza, è stata istituita in Regione Liguria la commissione speciale con funzione di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria conseguente al contagio Covid-19. Il consigliere Andrea Melis, Movimento 5 Stelle, è stato nominato presidente e la prossima settimana, quando la commissione dovrebbe riunirsi per la prima volta, verrà eletto il vicepresidente e verrà definito il programma dei lavori. Cerca le funzioni della commissione, Melis spiega come, diversamente da quelle parlamentari, il nostro ruolo esula da competenze investigative e di indagine, propria degli organismi di autorità giudiziaria, ma ci consente di convocare tutti i soggetti coinvolti e accedere agli atti utili ad individuare eventuali errori commessi durante la gestione dell'emergenza sanitaria, in modo da scongiurarne e ripetersi in futuro e, conseguentemente, accertarne le responsabilità politiche. Tutti gli elementi che saranno acquisiti dalla commissione, conclude il presidente Melis, saranno a disposizione dei soggetti istituzionali che ne hanno titolo e ne faranno richiesta. Parliamo di sanità, da mesi chiediamo alla commissaria di Asl 5, Daniela Troiano, di aprire un tavolo di confronto per affrontare la problematica delle host di Cop Service, ma sistematicamente il sindacato viene ignorato. È quanto afferma Lara Ghiglione, segretaria generale della Camera del Lavoro della Spezia, Mario Ghini, segretario generale Will Liguria, in merito alla gestione sanitaria in Asl 5, i due sindacati chiedono risposte anche su come l'azienda sanitaria intende intervenire sulla gestione dell'RSA, visto quanto accaduto nella fase pandemica e sul perché, si legge in una nota, considerando che in tanti sostengono che l'emergenza sanitaria è passata, il CUP non sia ancora stato aperto. Riparte la stagione balneare, ma facendo attenzione a rispettare le norme anticontagio da Covid-19. ve ne ha parlato ai nostri microfoni il comandante Giovanni Stella. Vediamo il servizio di Aurora Razza e le immagini di Davide Morina. Con le ripartenze in vari settori è ripartita ufficialmente anche la stagione. Decisamente sì. Il governatore Toti ha sottoscritto l'ordinanza con cui si è attivata la stagione balneare dal 3 giugno di quest'anno e simultaneamente si sono attivate in tutta la regione Liguria le ordinanze di sicurezza balneare delle capitanerie di Porto. Quali sono comunque i protocolli di sicurezza che bisogna seguire? Guardi, l'esempio lampante anche durante questa intervista lei sta usando un'asta questo perché anche a mare bisogna garantire il distanziamento sociale quindi è importante prima di andare su ciascuna spiaggia consultare le ordinanze sindacali ovvero quelle dei comuni rivieraschi che dettano delle direttive dettano dei distanziamenti dettano dei comportamenti è importante soprattutto quest'anno che è una stagione particolare sarà purtroppo una stagione particolare prenotare attraverso i vari siti attraverso anche le app che sono state e saranno attivate sui propri cellulari il posto anche sulle spiagge libere questo per far sì che venga comunque mantenuto il distanziamento sociale le funzioni di controllo le svolgeremo anche noi delle capitanerie che oltre alla parte di sicurezza balneare vera e propria faremo anche dei controlli Covid così come secondo le direttive della questura della spezia che è l'organo diciamo di tecnico di pubblica sicurezza e che impone a ciascuna forza di polizia di effettuare determinate azioni di controllo ecco per quanto riguarda il mare i controlli Covid in cosa consisteranno? Consisteranno sostanzialmente nel garantire il rispetto di quelle che sono le ordinanze sindacali e quindi il distanziamento sociale tra le persone ovviamente il distanziamento sociale viene meno nel momento in cui ci siano persone dello stesso ambito familiare però raccomando comunque una massima attenzione a questo a questo aspetto non tanto del singolo ma a beneficio della collettività sono stati fatti tanti sforzi fino ad ora sarebbe un peccato dover accedere proprio all'ultimo momento comunque sarà una bella stagione balneare nel rispetto delle regole di quest'anno Cambiamo argomento forte crescita alla Spezia nel 2019 della raccolta differenziata e della capacità depurative quanto si legge in una nota IREN nella diffusione del bilancio di sostenibilità 2019 nel 2019 la provincia della Spezia ha raggiunto il 74,1% di raccolta differenziata in crescita di oltre 4 punti percentuali rispetto al 2018 e significativamente superiore sia rispetto alla media nazionale del 58,1% sia rispetto a quella regionale del 49,67% in provincia della Spezia sono oltre 205 mila gli abitanti serviti nella raccolta rifiuti in 21 comuni interamente coperti dal servizio porta a porta si legge nella nota i risultati che pongono la provincia della Spezia al vertice in regione per quanto riguarda le risorse idriche si legge ancora il 50% delle reti idriche gestite dal gruppo è stata distrettualizzata incrementando pertanto l'efficacia e l'efficienza gestionale delle stesse in provincia della Spezia dove Irene gestisce 176 impianti di depurazione Irene ha incrementato del 4% la capacità depurativa rispetto al 2018 per quanto riguarda le assunzioni e la decarbonizzazione l'azienda precisa il gruppo ha assunto 27 persone in provincia di Spezia dove a fine 2019 lavoravano 721 dipendenti è stato confermato il costante impegno del gruppo conclude la nota nella decarbonizzazione al 31 dicembre 2019 Irene ha infatti conseguito una riduzione dell'1.7% dell'intensità carbonica e un incremento dell'energia risparmiata del 7% e cambiamo di nuovo argomento torniamo a parlare della bretella Ceparana Santo Stefano si è svolto oggi l'incontro tra la provincia della Spezia regione Liguria e i sindaci il cui territorio è interessato dall'opera al centro la convenzione attesa dal ministero ascoltiamo l'assessore regionale Gian Pedrone l'intervista è stata raccolta da Aurora Raza con le immagini di Davide Morina manca solo la convenzione da parte del ministero delle infrastrutture per dare il via libera al progetto esecutivo e alla realizzazione del primo lotto della bretella Ceparana Santo Stefano è questo quanto emerso dall'incontro tra provincia della Spezia regione Liguria e i sindaci il cui territorio è interessato dall'opera convocato questa mattina dall'assessore alle infrastrutture di regione Liguria Gian Pedrone è fondamentale perché mette insieme le risorse che sono sia ministeriali che regionali e perché l'ente provincia è l'ente incaricato ancora dalle delibere del Cipe degli anni passati come soggetto attuatore di quest'opera almeno per il primo lotto poi c'è un tema sul secondo lotto che abbiamo trattato ma evidentemente per poter dar gambe all'appalto integrato progetto esecutivo e quindi realizzazione del primo lotto serve questa convenzione che attendiamo dal ministero come sua esposizione finale per poter essere appunto firmata sul tavolo della discussione anche il lotto 2 400.000 euro arriveranno dalla regione per la sua progettazione sul come realizzarlo in termini economici noi abbiamo chiesto ottenuto dal ministero delle infrastrutture che il secondo lotto sia a carico di chi gestirà la concessione autostradale della 12 che noi abbiamo computato in circa 10 milioni di euro come fase realizzativa è inserita nel bando del rinnovo della concessione nell'allegato diciamo L che è quello che la regione ha evidenziato al ministero delle infrastrutture per quanto riguarda le rampe sulla 12 la posizione di regione Liguria è chiara io ho avuto interlocuzioni ancora nella giornata di ieri con il sottosegretario Traversi che mi ha come dire annunciato di aver lavorato affinché anche in a 12 ma non per parti come dire regionali o provinciali semplicemente perché c'è tanta necessità anche sul territorio provinciale spezzino di arrivare ad avere queste rampe che ci colleghino con la 12 che quindi diano una risposta emergenziale anche a un territorio che è quello della provincia della Spezia che non ha visto il ponte crollato ma evidentemente ha invece in termini di ricadute negative una situazione molto grave da affrontare previsto per domani invece un sopralluogo per regione toscana e ANAS per la realizzazione delle rampe sulla A15 abbiamo chiesto di poter avere anche un commissario Ligure non per la ricostruzione del ponte crollato in Toscana ma proprio per questa serie di opere alternative alla ricostruzione del ponte che consentissero di affrontare al meglio dell'emergenza il ministero il governo ha valutato invece un solo commissario è chiaro che i compiti di quel commissario sono ben chiari ricostruire il ponte in Toscana noi come Liguria non abbiamo interlocuzione non abbiamo ancora avuta siamo sempre disponibili nel caso in cui fossimo come dire in qualche maniera cercati per dare la nostra opinione ad oggi il nostro riferimento è il ministero delle infrastrutture col quale colloquiamo da diverso tempo con dei risultati che spero potranno arrivare che oggi ancora non vediamo c'è bisogno di rapidità questo l'appello dei sindaci di Santo Stefano Magra e Bolano per la realizzazione della bretella Ceparana Santo Stefano vediamo il servizio di Aurora la razza le immagini Davide Morina oggi la riunione è convocata dall'assessore Gianpedrone in provincia per decidere per parlare della bretella Ceparana Santo Stefano qual è la posizione del suo comune noi abbiamo lavorato da subito dal 2014 perché quest'opera vedesse la luce oggi siamo vicini al traguardo nel senso che è stato approvato il progetto definitivo del primo lotto e soprattutto si sta ragionando anche sul secondo lotto che era naturalmente inevitabile oggi abbiamo le risorse per la progettazione del secondo lotto che riguarda il comune di Santo Stefano Magra e le due cose abbiamo deciso da subito che debbano andare parallelamente c'è stato fatto da parte dei tecnici anche un po' il discorso del cronoprogramma che ahimè se non viene come sembra nominato il commissario e riconosciuto lo stato di emergenziabilità avrà dei tempi lunghi ma comunque certi quindi si parla della giudicazione dei lavori entro il 31 dicembre 2021 e tempi di realizzazione c'è stato detto oggi di 20-22 mesi quindi diciamo nel giro di 3-4 anni avremo quest'opera attesa da più di 50 anni realizzata il tema che abbiamo sempre fortemente posto come territorio era quello che quell'opera da sola non è risolutiva dei problemi di tutta la vallata della vallata del Magra ma di tutta la provincia il lotto 2 che è sul mio territorio quindi parliamo di Santo Stefano ha bisogno di un progetto di viabilità che non comprometta la già difficile situazione che è quella di un quartiere come quello della macchia ma anche di servizio ad imprese che sono quelle del porto e del retroporto abbiamo chiesto quindi che insieme all'otto 1 in modo contemporaneo si parli si progetti e si trovano le risorse anche per il lotto 2 abbiamo bisogno di fare il progetto definitivo perché avrà bisogno di tempo perché deve essere un progetto condiviso dalle forze politiche di maggioranza di opposizione del mio territorio ma anche dei cittadini e poi avremo bisogno di reperire le risorse per poterlo realizzare così come è stato pensato da solo il Ponte Ciparano Santo Stefano non basta e anzi creerebbe dei problemi che il mio territorio non può assolutamente sopportare ulteriormente però mi pare di aver trovato un'interlocuzione importante sia con il sindaco di Bolano che di Vezzano ma anche con la regione e con la provincia ora il tema è la firma della convenzione per poter partire poi non solo con l'8-1 ma anche con la progettualità dell'8-2 Massimo Caleo ex senatore del Partito Democratico è stato nominato dal segretario Zingaretti responsabile parchi e aree protette del Partito Democratico la mia storia personale istituzionale si intresce indissolubilmente con i temi della tutela ambientale e della biodiversità afferma Caleo ed è perciò un grande onore per me il fatto che il PD e il segretario Nicola Zingaretti mi abbiano chiesto di assumere questo incarico lo farò in stretta sinergia con Chiara Braga che nella segreteria nazionale è responsabile ambiente e del programma Liguria Popolare presenta un ordine del giorno in consiglio regionale affinché gli uffici postali riprendano la piena operatività Andrea Costa in una nota spiega rappresentano non solo un servizio utile ma un presidio sociale indispensabile per gli anziani e il nostro entroterra il perdurare di questa situazione sta creando disagio all'utenza con conseguenti di code nei giorni di apertura previsti la presidente Claudia Ceroni annuncia le sue dimissioni e quanto si apprende da una nota diffusa dalla fondazione Carispezia a seguito della seduta del consiglio di indirizzo del 10 giugno nel corso della quale Claudia Ceroni ha comunicato appunto le proprie dimissioni dalla carica di presidente della fondazione Carispezia da un punto di vista operativo secondo quanto previsto dallo statuto le funzioni di presidenza saranno esercitate dalla dottoressa Ceroni fino all'insediamento del nuovo presidente qualora necessario potrà comunque essere sostituita dalla vice presidente dottoressa Cinzia Sani il consiglio di indirizzo provvederà a reintegrare la composizione dell'organo in base alle procedure stabilite dallo statuto e dal regolamento per le nomine della fondazione entro la fine del mese ad eleggere il futuro presidente ricoprire il ruolo di presidente della fondazione Carispezia è stato per me un onore e un privilegio dichiara Claudia Ceroni e desidero ringraziare il consiglio di indirizzo il consiglio di amministrazione e tutti i collaboratori che mi hanno validamente supportato in questo percorso portato avanti nel segno della continuità a cui ho cercato di apportare con dedizione e passione il mio contributo cambiamo argomento e parliamo un po' di Luna TV al canale 171 che trasmetterà domani una serie di interviste e testimonianze appositamente realizzate per i giovani che si avvicinano alla maturità ideate dal comune della Spezia e dall'ufficio scolastico regionale attraverso la rete per il lavoro si tratta dell'ultimo appuntamento della programmazione di didattica a distanza in onda sulla nostra emittente ci racconta tutto Sergio Di Ofili domani sul canale 171 di Luna TV a conclusione del ciclo a scuola in tv che per oltre due mesi ha garantito l'educazione a distanza attraverso la nostra emittente andranno in onda una serie di interviste e testimonianze realizzate per i giovani che si avvicinano alla maturità ideate dal comune della Spezia e dall'ufficio scolastico regionale attraverso la rete per il lavoro il progetto nasce dall'idea di Genziana Giacomelli assessora al lavoro del comune della Spezia e dell'ufficio scolastico regionale di mettere la rete per il lavoro a servizio del mondo della scuola nella consapevolezza che tale avvicinamento rappresenti il punto di partenza fondamentale per ridurre la distanza tra percorso di studio e mondo del lavoro la rete per il lavoro coinvolge quasi 40 soggetti tutti operanti a vario titolo nel mondo del lavoro locale associazioni di categoria enti di formazione agenzie del lavoro organizzazioni sindacali camera di commercio riviere di Liguria e alcuni comuni della provincia proprio grazie alla collaborazione con l'ufficio scolastico regionale è nata l'idea alla rete per il lavoro di avvalersi del canale televisivo già efficacemente utilizzato per le lezioni a distanza per avvicinare i giovani al mondo del lavoro e far conoscere alcune realtà economiche del nostro territorio hanno aderito a questo progetto di orientamento il centro per l'impiego della spezia la cna confartigianato confindustria la confederazione italiana agricoltura e lega copp Liguria oltre ad alcuni giovani che hanno portato le loro testimonianze i video saranno in grado di dare ai ragazzi alcune informazioni su come scrivere un curriculum vite o sostenere un colloquio di selezione far conoscere professionalità più richieste dal territorio e raccontare come le aziende stanno affrontando la crisi legata all'emergenza sanitaria sarà possibile seguire la programmazione di quest'ultimo appuntamento con a scuola in tv dedicato all'esame di stato della secondaria superiore domani 12 giugno dalle 10 e 50 alle 12 e 50 e in replica alle 14 e 40 su Luna TV al canale 171 del digitale terrestre per la provincia della Spezia per chi ci segue da Massa Carrara il canale è il 605 da sabato 13 giugno alle 8 la viabilità sul lungomare riaprirà in direzione l'erici San Terenzo permettendo il ritorno dei bus di linea saranno mantenute le due ampie corsie riservate ai pedoni finalizzate a evitare assembramenti nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali a causa della sospensione delle attività museali rispetto delle eccezionali misure anticontagio la mostra c'era una volta favole fantasia nei teatrini delle marionette della collezione Sergio del Santo inaugurata il 14 febbraio al museo civico etnografico Giovanni Podenzano è stata aperta meno di due settimane quindi è stato deciso di prorrogarla fino al 29 novembre 2020 l'esposizione è curata da Giacomo Paolicchi e da Maria Giuliana Zucchini del Santo e comprende una serie di teatrini delle marionette databili tra la fine del XIX secolo e la prima metà del XX secolo collezionati da Sergio del Santo appassionato studioso di storia locale nonché collaboratore del museo diocesano e del museo etnografico si ricorda che per accedere e visitare il museo è necessario chiamare in orario di apertura e prenotarsi lasciando il proprio nominativo e un recapito telefonico anche quest'anno in vista della stagione estiva la Croce Rossa della Spezza scende in campo per sensibilizzare la popolazione soprattutto i più giovani e una corretta esposizione ai raggi solari e alla prevenzione delle malattie della pelle appuntamento sabato 13 giugno dalle 16.30 alle 19 con i giovani della Croce Rossa che saranno in piazza del Bastione per distribuire materiali informativi e campioni di creme solari coinvolgendo i partecipanti a una serie di quiz e giochi a tema protezione della pelle a oggi infatti soltanto il 30% degli italiani utilizza la protezione solare nel corso del 2019 la Croce Rossa Spezzina ha distribuito alla popolazione più di 6.000 campioni di creme solari sensibilizzando migliaia di cittadini durante le iniziative di prevenzione prosegue il piano di pulizia straordinaria settimanale dei quartieri e lavaggio dei portici cittadini sabato 13 giugno l'intervento di pulizia straordinaria interesserà il quartiere di Miliarina Stazione il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e RAE rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sarà svolto da ACAM sabato 13 giugno tra via Monteperdico presso il centro sportivo dalle 7.30 alle 12 e domenica 14 giugno in piazza 4 novembre di fronte al circolo Arci dalle 7.30 alle 12 e prima di passare allo sport ascoltiamo insieme un ultimo aggiornamento da parte della regione Liguria sui dati del coronavirus nell'intervento dell'assessore Sonia Viale vediamo l'attività del nostro sistema ovviamente è a pieno ritmo continuiamo anche a fare le assunzioni quelle consentite dalle normative nazionali come ogni venerdì noi inviamo un report al ministero e possiamo dire che rispetto alla settimana scorsa abbiamo fatto altre 12 assunzioni delle quali 5 riferite a medici un infermiere e altro 6 per un totale complessivamente di 737 unità dall'inizio dell'epidemia e alcune notizie importanti sulla riattivazione di quelle che sono delle visite tra l'altro molte attese che mi stanno molto a cuore gli screening mammografici ripartiranno dal 22 nelle varie aziende in astre già da questo lunedì potendo recuperare e riattivare un percorso che si era interrotto ovviamente a febbraio all'inizio della pandemia e quindi una risposta importante da dare alle donne accompagnato ovviamente con la necessaria attenzione per il recupero e la ripresa anche degli altri screening altrettanto importanti e vorrei anche darvi notizia del percorso che abbiamo e che stiamo portando a termine per la riapertura dei centri diurni per disabili come noto è un'attesa forte una richiesta da parte delle famiglie noi oggi abbiamo fatto un approfondimento con la consulta Indica per regionale negli scorsi giorni con i centri degli enti gli entri gestori e lunedì definiremo il percorso abbiamo elaborato un piano territoriale per la riapertura che verrà sottoposto al confronto lunedì e qualora condiviso sarà oggetto di una delibera di giunta di venerdì prossimo in modo tale da poter consentire ai centri di riaprire i primi giorni di luglio è un percorso complesso è stato fatto con le regole della cautela e della prudenza per la sicurezza degli ospiti e per la sicurezza degli operatori e ora una notizia di sport sarà Antonio Soda allenatore dello Spezia nella storica stagione del ritorno in Serie B il protagonista della puntata Voglia di Spezia che andrà in onda questa sera alle 21.30 con il tecnico rivivremo i principali momenti di quel campionato 2005-2006 terminato con la promozione in Serie B dopo ben 55 anni e per questa edizione del TLS giornale questa era davvero l'ultima notizia però prima di salutarvi vi ricordo che ora andrà in onda l'approfondimento sul meteo grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata su Tenerguria Sud arrivederci un saluto un saluto a tutti da Marco Fanini di Limet nella giornata di domani un flusso umido sud orientale nei bassi strati determinerà molta nuvolosità in particolare sul ponente sabato nuovo passaggio perturbato con rovesci anche a carattere temporalesco ma andiamo nel dettaglio a vedere le previsioni per domani venerdì 12 giugno 2020 al mattino nuvolosità diffusa su tutta la regione più compatta a ponente dove non si esclude anche qualche piovasco nell'introterra nel corso del pomeriggio ampi spazi di sereno sul centro levante mentre a ponente ci sarà ancora molta nuvolosità con qualche debole piovasco in particolare nelle aree interne i venti saranno generalmente moderati da sud est fino a tesi da nord est solo sull'imperiese i mari saranno mossi le temperature saranno in aumento sulla costa le minime saranno comprese tra i più 16 e più 19 gradi mentre le massime tra i più 21 e più 25 gradi nelle zone interne le minime tra i 8 e i 14 gradi mentre le massime tra i 17 e i 24 gradi per ulteriori informazioni vi invito a visitare il sito www.centrometeoligure.com oppure a scaricare la nostra app di Limet di Limet Grazie a tutti.